a tutti i giornali bentornati sul mio canale benvenuti di nuovo su winter resort simulator oggi andiamo a vedere un'altra un'altra un altro tipo di tutorial diciamo la seconda parte del tutorial che avevamo iniziato un'altra volta cercherò di fare tutto più velocemente così che potremmo andare a giocare magari nella prossima volta oppure anche in questa puntata vediamo un attimo come si svolge e come si evolve la situazione ho notato che la cam dava un pochino fastidio quindi per oggi toglierò la cam così almeno vi vedrete il gioco nella sua interezza ok allora andiamo e cominciamo allora l'altra volta abbiamo fatto allestisci adesso parcheggiamo vediamo un attimo allestisci ah ma questo allestisci parcheggia allestisci parcheggia allestisci parcheggia senti allora facciamo una cosa facciamo la carriera dai cominciamo la carriera benvenuta in winter resort simulator alstain è una piccola ed idilliaca stazione scivistica ma voi vedete quant'è idilliaca esplora un mondo di gioco di 6 km quadri con tantissimi dettagli e persino un adorabile villaggio tutti sti aggettivi investi in funevia all'avanguardia per riportare quest'area all'antico splendore addirittura antico splendore vediamo sto hellstain allora oh vediamo benvenuto alla stazione scivistica di hellstain in questo tutorial ti mostriamo tutti gli elementi e le caratteristiche più importanti del gioco saperlo prima il winter resort simulator puoi camminare liberamente in modalità prima persona usa i seguenti tasti vabbè vs addirittura ora è ora di iniziare il primo giorno di lavoro ok entriamo vabbè usa accelera bla 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 c'è stata a proposito nell'impostazione il gioco può scegliere di avviare il motore dell'auto e rilasciare il freno di stazionamento da solo comando visuale comando visuale nella maggior parte dei veicoli puoi usare diverse prospettive di visuale uno due la miseria tre quattro forse questa è la migliore vabbè ok visuale dall'esterno premi due ok rilascio il freno a mano quindi torno a sedire il conducente 1 c'è ancora molto da fare prima che la situazione apra alle 8.30 guida fino alla valle a valle e segui le istruzioni vabbè c'è meglio guido come dico io non si è in discesa non è che si vede proprio al massimo vabbè ho guidato fino alla valle no oh ma che sei matto fammi superare questo mamma mia mamma mia quindi esci esci tiriamo il freno a mano speggiamo il motore e che facciamo le luci le lasciamo accese ok eccoci qua siamo arrivati eh ragazzi siamo arrivati allora uh il gatto delle neve ah so compenetrato nello sportello bene ok e adesso devo aprire questo ovviamente dovrò uscire con lo snow cat allora entriamo giù di sportello uh apri porta che poi va bene ok ok avviamo odore rilascia freno di stazionamento solleva compattatore con boom scusa che ho sollevato ah ecco questo ok ok ehm i comandi del piston bully piston bully piston bully ehm sono un po' diversi rispetto a quelli degli altri veicoli la differenza principale è che per cambiare la direzione di guida devi premere un tasto diverso cambia direzione maiuscola sinistro ah che cazzo vuol dire solleva bassa compattatore W maiuscolo W ah ok 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 premi L per accendere gli anabaglianti accendi i riflettori col tasto home è questo home? eccolo ah ecco ah premi il tasto numero 4 ah eccole figo ok premi il tasto numero 5 per accendere la luce da lavoro 2 uuuu vedi? guida fino alla pista e inizieremo a compattare la neve quindi quindi abbassa compattatore uuuu e ora arriva fino a supero e ora arriva fino a supero mamma mia che strano uuuu va da solo figo che poi è fighissimo veramente la mattina si alzano questi e vanno a compattare le piste certo non sempre perché mi ricordo una volta sono andato c'era neve fresca fighissima ragazzi non potete capire c'era neve fresca ovunque su tutte le piste almeno c'erano 10-15 cm di neve ma è fighissimo era come surfare nella neve cioè non controllavi neanche bene la tavola quindi bellissimo allora oh sta pista eccola è finita no? col cavolo oh è finita qua oh eh si qua finisce che poi io penso a parte che qui basta premere Q e fanno tutto loro però io penso che poi a un certo punto avremo la possibilità di chiamare degli operai a fare questo lavoro perché se no ragazzi alzati tutti i giorni fallo per tutte le piste così diventi scemo eccoci qua ragazzi abbiamo praticamente finito mancava una striscia ma ce l'ha data per buona ottimo la parte inferiore di questa pista è compatta in questo tutorial saremo noi a occuparci della parte superiore della pista per te vabbè l'ho fatta io quindi quindi guida il piston baldi e riportalo in garage non dimenticare di sollevare il compattatore quando ti allontani dalla pista ok ok frena mano spegni motore ah spegni luci home perfetto le luci non me le fa spe... ah quattro era questo qua ok ok chiudi qua apri qua e credo dovremmo prendere infatti la macchina entra nella tua auto ok chiudi accendi togli il freno a mano raccogli consegna parcheggi all'indietro nel punto indicato ah qui sotto come ci si arriva? ah eccolo allora inizierai consegne in tutti i tuoi chalet e i ristoranti vengono effettuati domani 20 alle 8 e 30 però puoi scegliere di effettuare le consegne da solo per risparmiare denaro a volte una struttura puoi esaurire le scorte in questo caso dovrai effettuare tu stesso la consegna alla struttura per assicurarti che continui a funzionare ok ordiniamo una nuova consegna allora frena a mano lascia acceso tanto si spegne da sola e allora ordiniamo una nuova consegna premio il tasto q apri porta ah eccole queste qua sono ok chiudi perfetto dovrebbero essere quantomeno stabili ok vai accendiamo se perdi un pacco fermati subito e ricercalo ricaricalo ricercalo eh 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 subito ammazza ammazza che culo eh speriamo che regga che dio ce la mandi buona raga allora riaccendiamo il motore due vai piano piano bisogna guidare qui perché certo un altro tipo di indicazioni gira a destra gira a sinistra follow the road follow the road allora vai andiamo mi sa tanto che dobbiamo salire un bel po' eh vabbè ragazzi vediamo sopra dai ah ecco qui dice proprio gira a dep pure le frecce capito hai capito oh ma credo se c'è la freccia bisogna ah ecco quelle frecce insomma abbastanza lontanuccio eh il sistema di guida non è proprio dei migliori eh infatti non mi sembra proprio uno di quei simulatori ben fatti benvenuto alla stazione di montagna d'erba 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 questo è il cuore della stazione cissi che include il garage principale dei di pissing bully pissing bully ok siamo praticamente arrivati dai chiusi chiusi sta porta apri qua questo dovrebbe oh ecco così spariscono che figo raga un po' vabbè ho detto mi sembra un po' farmi in simulator anche in farmi in simulator devi consegnare dei pacchi ok allora riprendi la macchina entra chiudi lo sportello accendi motore tac mo ecco ecco qui mi devo mettere dentro ok va di freno a mano eh mamma mia drift proprio ok ora dobbiamo preparare allestire la door 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 van ma manca molto tempo quindi iniziamo subito ok allora usciamo quindi di notte i veicoli delle funevie a veicoli mobili vengono conservati nelle stazioni più precisamente nel cosiddetto parcheggio questo avviene sia per motivi di sicurezza che per proteggere le strutture dalle intemperie al mattino tutti i veicoli devono essere riportati al loro posto questo processo è chiamato allestimento la controparte dell'allestimento mattutino è il cosiddetto parcheggio serale senti pure il rumore dei passi sulla neve ragazzi ok quindi ora allestiamo door van andiamo nella sala comandi per avviare il sistema ok un bel ripassino ragazzi no era questo sì allora chiudi che fa freddo accendi la luce ora qua sistema on off ok il touch screen è particolarmente importante per far funzionare la funevia ora lo useremo per cambiare la modalità operativa in allestisci ecco qua parcheggio allestisci e non è cioè non è facile ricordarsi tutto raga quindi vi consiglio di fare il tutorial se vorrete prendere questo simulatore ma allora questo è il pannello scambio allestimento ok ripristine operazioni questo pare che bisogna sempre cliccarlo il pulsante abbassa piattaforma aspetta fammi vedere qual'è lo scambio ora dobbiamo preparare il parcheggio apri il cancello e attivi i comandi del parcheggio accenditi le luci allora qui ci stanno due pannelli uno è qua on ripristina qui verso destra v3 ok poi oh oh avviai la funeria vabbè qui è strana come cosa raga perché la funeria da dove si avvia? da la? no si pareva troppi secondo me troppi raga troppi comandi cioè ok che è un simulatore però porca miseria cioè poco poco di impari raga cioè puoi andare tranquillamente nelle nelle funevie di tutta Italia di tutto il mondo e puoi tranquillamente allestire le funevie la funevia ora è in accelerazione questo significa che possiamo già lanciare il primo veicolo lanciamolo dai ovviamente da qua subito dopo dobbiamo contrassegnarlo così il personale dell'altra stazione saprà del primo veicolo ti pareva ammazzato troppi pannelli raga veramente allora avviai allestimento qui contrassegna perfetto alle 8.30 preciso ottimo il primo veicolo è stato contrassegnato quando arriverà dall'altra stazione metterà un avviso acustico per informare il personale non dimenticare di controllare se nel parcheggio tutto va bene di tanto in tanto pare che vada tutto bene ok beh vedi posso non c'è altro da fare finché il primo veicolo non sarà tornato qui niente praticamente raga si è buggato si è buggato il processo perché praticamente questo il tutorial mi diceva di inserire il v3 lo scambio v3 in modo che le le cabine da questo corridoio finiscono in quest'altro corridoio e vadano giù in fondo per poi ritornare su e lì sarebbe finito il tutorial ma qui il tutorial non finisce perché si è buggato il sistema quindi credo che il tutorial sia compromesso niente raga allora io il lavoro mio l'ho fatto cioè ho cercato di di capire perché il sistema non funzionava alla fine ci sono riuscito ma non sono riuscito a farlo funzionare il problema è questo niente raga a malincuore vi dico che la puntata finisce qui anche perché raga ho fatto il tutorial due volte insomma non era neanche piccolo quindi sono dovuto tornare indietro fare tutta la pista poi i pacchi non vi dico per sistemare i pacchi quindi vabbè direi che per questa puntata è tutto speriamo che nella prossima insomma non si baghi niente soprattutto il tutorial ora mi raccomando condividete iscrivetevi al canale e soprattutto spolliciate questo video ragazzi ci vediamo alla prossima puntata a tutti mi raccomando all'agliac test ciao raga ciao